Quali sono gli strumenti liberamente disponibili per aiutare l'azienda a capire come fronteggiare il rischio e a come evolvere rispetto alla risposta che l'azienda è pronta a dare rispetto a questo rischio. In particolare esistono diversi framework di cyber security liberamente disponibili che permettono all'azienda di valutare qual è il proprio stato attuale rispetto al rischio informatico, definire qual è un target e in maniera molto semplice ottenere tramite una gap analysis la distanza rispetto a questo target. In questo modo sarà piuttosto semplice riuscire a priorizzare correttamente gli interventi e gli investimenti che potranno innalzare in maniera significativamente la robustezza dell'azienda rispetto a questo tipo di rischi. Grazie a tutti.